Il centro per l'autismo di Valle ha una svolta con i lavori praticamente completati e l'avvio dell'iter di esproprio per l'acquisizione del solo necessario alla realizzazione della struttura, le procedure tecniche e burocratiche sono quasi compiute. Il sindaco di Avellino però resta cauto sui tempi pur assicurando il massimo impegno per aprire quanto prima il plesso. Siamo solo agli inizi nel senso che dopo questa lunga attesa completata la struttura poi dovrà cominciare la parte più seria, quella a cui teniamo molto di più, cioè quella dell'erogazione di un servizio dal punto di vista scientifico e anche dal punto di vista medico verso i bimbi che soffrono questo disturbo e anche verso le famiglie che finalmente potranno trovare un po' più di tranquillità avendo un centro in città. Registrato il ritardo sul protocollo d'intesa con ASL e associazioni c'è da risolvere al più presto in nodo gestione. Servirà di fatto il trasferimento in quadrato d'uso alla ASL e anche l'organizzazione del personale, delle figure professionali adeguate, ad esempio chi ha seguito i corsi e i BA per far partire in maniera efficace il servizio. Su questo abbiamo già avviato interlocuzioni anche con la direttrice Morgante che ha mostrato grande sensibilità. Ma questo taglio del nastro garantisce festa, non sarà legato a speculazioni elettorali in vista delle regionali. Io credo che dinanzi alle questioni che riguardano la salute della comunità e anche la tranquillità sociale della comunità non ci possano essere elezioni che tengano. Evidente che il ruolo della regione è fondamentale perché deve fornire le risorse economiche necessarie all'ASL affinché il servizio possa partire.